E' quello di Giovanni Minoli che certamente non ha bisogno di presentazioni. Iole Santelli lo ha corteggiato artisticamente al punto da affidargli un ruolo importante, ossia quello di commissario straordinario della Calabria Film Commission. Una scelta di alto profilo, il suo, un nome di prestigio che con il contributo personale darà lustro alla Calabria, bella di paesaggi e ricca di competenze, proiettandola verso i grandi mercati del cinema e dell'audiovisivo internazionale. Giovanni Minoli rappresenta l'innovazione, sempre al passo con i tempi, grande padronanza manageriale, enorme il successo di format e talenti che ha portato al successo. Solo per ricordarne qualcuno, un posto al sole, la prima soppa di successo in Italia ma anche la più longeva e poi ha radicalmente modificato il mondo del giornalismo con Mixer, Report e quello dell'intrattenimento, con turisti per caso e quelli della notte. E ancora non escludiamo l'informazione culturale, se si pensa alla storia siamo noi, autore e altri siti documentari e reportage, la sua prima rubrica in tv è stata A come agricoltura. Quindi sotto la guida di Minoli il cinema e l'audiovisivo calabrese potranno raggiungere certamente traguardi importanti che contribuiranno a comunicare l'immagine bella e positiva della Calabria che si fonderà anche sull'industria creativa.